Chiusura e ribasso per Piazza Affari, indebolita dalle incertezze sulla formazione del nuovo governo. L'indice Fuzzimib termina con un calo dello 0,92%, l'all share dello 0,94%. Brusca è impennata per lo spread BTP Bund che sfiora a quota 350 punti. Sul Pagnare milanese Brilla Ansaldo, più 11,09%, Mediaset più 5,29% e Finmeccanica più 1,76%, Bene Fiat Industrial più 1,72% e Intesa San Paolo più 0,89%. In Forte Calo, Monte dei Paschi di Siena, meno 4,29%, Mediobanca meno 3,59%, Buzzi Unicem meno 3,30%. Prevale il segno meno sui listini del vecchio continente. A Francoforte il DAX cede l'1,15%, mentre a Parigi l'indice principale lascia sul terreno lo 0,99%. Il rosso anche Amsterdam meno 0,89% e Londra meno 0,18%.